Oggi condizioni di alta pressione e tempo stabile. Per mercoledì è previsto l'ingresso di un sistema frontale sul Mediterraneo occidentale con formazione di un minimo sul Ligure associato a forti venti di Libeccio. Giovedì e venerdì condizioni di instabilità. In Toscana mercoledì 13 luglio cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti associati a rovesci e locali temporali. Inizialmente le precipitazioni saranno più probabili sulle zone settentrionali mentre nel pomeriggio su quelle interne centro-meridionali. Inserata miglioramento al sud, nuovo peggioramento sul nord-ovest. Venti moderati o forti di Libeccio in particolare sulla costa settentrionale sui rilievi. Mari inizialmente molto mossi i settori centro-settentrionali, da poco mossi a mossi gli altri. Dal pomeriggio, rapido aumento fino a mari agitati i settori centro-settentrionali mossi gli altri. Temperature in calo. Nella provincia di Lucca, tempo perturbato con probabilità di pioggia nella prima parte della giornata sulla piana e sulla costa. Pioggia alternata a schiarite sulle zone montane. A Lucca e nella piana, temperatura minima 18, massima 29 gradi. In Versilia e sul litorale, minima 21, massima 25. In Garfagnano e zone montane, minima 15, massima 27 gradi.